Benvenuti a tutti ragazzi, io sono Seisem e oggi siamo su un nuovo canale. In questo canale vi voglio parlare di cinema e teatro. Farò delle news sul film che usciranno a breve e farò vedere il trailer più importante che uscirà la settimana seguente al video e parlerò del film della settimana e dell'attore della settimana. In più, per farvi divertire almeno, spero, vi farò le challenge che voi mi direte di fare nei commenti qua sotto. Le più belle comunque farò. Questa era la presentazione del canale. Questo era tutto ragazzi, datemi dei consigli su cosa fare nei prossimi video qua sotto nei commenti. Almeno non vi annoierò troppo. Comincerò già da oggi a fare i video siccome la presentazione del canale è durata solo 50 secondi. Bella a tutti ragazzi, ciao!